La forza da due sportellate, quella c'è sempre. Come dico sempre, dove ci si arriva, ci si arrampica. Quest'anno siamo nella condizione di non dover guardare risultati, quindi, come ho detto, è sicuramente una partenza agevolata, perché sai che il premio, il tuo obiettivo, arriverà solamente in base al tuo lavoro e a quello che fai in campo la domenica. Penso che sia la cosa più importante e lo stimolo più importante. Sarà sicuramente l'emozione, perché gli ultimi due anni passati, siamo a Alvin e sicuramente sono stati bellissimi. E lui sicuramente è stato un esempio, perché per l'età che ha, per la gioia e la voglia di divertirsi e la professionalità che mette ogni giorno in palestra, penso non sia secondo a nessuno di tutto il mondo. Grazie. 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 Grazie.